Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse Guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, chiamate i primi posti nelle sinagoge e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse Maestro, dicendo questo tu offendi anche noi. Egli rispose Guai anche a voi, dottore della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Parola di Dio Dottore Dottore Dottore